La fine di una vita ai margini, forse il freddo ha ucciso Gausani Zbir, 56 anni, origine marocchina, residente a Santa Croce da diversi anni, trovato morto in una ex conceria in una delle strade della prima zona industriale. L'uomo si è ricavato un letto e una piccola cucina con un fornello per prepararsi da mangiare. Qui il giorno di Befana è stato ritrovato cadavere, non era sposato, non aveva figli e secondo quanto emerso sarebbe stata una sua scelta quella di vivere nell'edificio della ex conceria. A Santa Croce aveva parenti e amici, sono stati questi a segnalare il silenzio che da alcuni giorni stava avvolgendo la vita di Zbir e preoccupando chi lo conosceva. Così il giorno dell'Epifania hanno dato l'allarme al 118 ai carabinieri. Il corpo senza vita del 56enne è stato ritrovato disteso nel letto sotto il lenzuolo e le coperte invernali. La morte, secondo un primo esame esterno del cadavere, potrebbe risalire a una decina di giorni fa. Quasi sicuramente Gausani è stato ucciso da un malore e non viene escluso per la causa possa essere il freddo pungente di queste ultime notti. Il magistrato di turno del procura Pisa ha deciso che la salma venga sottoposta ad autopsia e per questo motivo ne ha autorizzato la rimozione. Insomma una vita finita ai margini e terminata nel silenzio. Situazioni, disuguaglianze che sia chiaro esistevano anche prima della pandemia ma che la pandemia ha contribuito ad acuire. Una casa di fortuna quella che Gausani Zabir si era ricavato nell'ex colceria. Nonostante questo viene descritta come un ambiente con un suo ordine, non un rifugio temporaneo da quanto parli capire ma una scelta di vita da parte dell'uomo che evidentemente aveva deciso liberamente e spontaneamente di trascorrere così le sue giornate. Pare svolgesse anche qualche lavoretto saltuario. Il 56enne marocchino era conosciuto anche ai servizi sociali e in passato avrebbe trovato riparo anche al centro di ospedalità notturna le querce di Mamre.